Sono venuto qui per parlare di innovazione e finanziamenti e della nostra iniziativa con Green Capital Alliance che è la fondazione che noi abbiamo creato come bridge per portare l'innovazione tecnologica dall'ambito rinnovabile a mercato. Devo dire che queste iniziative territoriali sono sempre molto interessanti perché danno la possibilità di incontrare una serie di imprese e di capire sul territorio quello che poi si sta muovendo, quello che sta funzionando e quello che non sta funzionando. Devo dire che in Emilia Romagna ci troviamo in una situazione per me ottimale perché siamo molto avanti dal punto di vista dell'innovazione, dallo sfruttamento dei bandi regionali ed europei. È sicuramente una delle regioni da cui prendere esempio e mi fa molto piacere poter dare il nostro contributo come azienda a queste tipologie di iniziative.